Il Partito Democratico non è mai stato unito come adesso, sono le parole di Stefano Bonaccini pronunciate durante la tappa nelle Marche. Ieri l'europarlamentare e presidente del PD ha preso parte alla festa dell'unità di Vallefoglia e poi, qualche ora dopo, all'evento regionale di Pesaro. Tanti i temi affrontati, dall'autonomia differenziata all'Europa, passando per l'attuale stato di salute del PD. Bonaccini a Vallefoglia si è soffermato sul centrodestra, definendolo in difficoltà su diverse questioni. Penso che la destra, che ha un forte radicamento sociale e anche alle ultime europee, comunque ha raggranellato poco meno della metà dei voti degli elettori del paese. Una destra però in difficoltà la vedo io. In difficoltà perché cominciano a esserci crepe su alcune questioni, da ultima questa dello youth school, più in generale dei bambini o delle bambine o dei ragazzi e ragazze stranieri che nascono qui, quindi che dovrebbero essere velocemente italiani, ma su altre questioni si apriranno fratture. Guardi quello che sta accadendo con l'autonomia differenziata rispetto a questa autonomia differenziata al sud, con presidenti come Occhiuto di Forza Italia, nettamente contrari in Calabria e vedrà che se ne aggiungeranno altri. Per il Partito Democratico la strada è tracciata. L'obiettivo, dice Bonaccini, è costruire un fronte alternativo alla destra. Poi il presidente del PD ha commentato il faccia a faccia tra Matteo Renzi e Matteo Ricci sul palco a Baia Flaminia e si è detto d'accordo con il parere dell'ex sindaco di Pesaro. Penso che serva, come ha detto Ricci, un accordo con il centrosinistra classico e stenderlo al Movimento 5 Stelle, ma serve anche chi rappresenta posizioni più moderate di centro e quindi chi come Renzi o tanti altri, ma poi a me dei leader interessano molto poco, mi interessano i voti di milioni di persone, è un punto di vista che secondo me può essere utile. Io sono un uomo di sinistra, mi definirò così tutta la vita, ma in Italia ci sono milioni di persone che di sinistra non si definiranno mai. Dobbiamo evitare però che una parte di questi, che con questa destra secondo me non ci vogliono andare, non si sentano anche alternativi a noi.